E' ora di consumare meno e sfruttare il massimo degli eco-incentivi Ford fino al 31 dicembre. Fiesta GPL, allo stesso prezzo del benzina, 9.000 euro, sabato 28 e domenica 29. Combatti il mal di schiena con ThermaCare, una nuova fascia autoriscaldante senza bisogno di farmaci analgesici. Le celle brevettate di ThermaCare rilasciano per otto ore un calore terapeutico che penetra in profondità e rilassa i muscoli tesi. Dando sollievo dal dolore. ThermaCare, il calore che scioglie il dolore. Le sfide quotidiane, gli imprevisti, le preoccupazioni per il futuro. Tutto sembra più piccolo quando hai al tuo fianco un gruppo come UGF. Unipol Gruppo Finanziario, a misura del tuo domani. Oggi perché? Pizz. Eh sì, è facile farsi tentare da sforna tutto dell'onghi. Il forno che ogni giorno cucina tutto, anche due grandi pizze. Fuori. A tavola. Nuovo sforna tutto dell'onghi. Il forno che si usa ogni giorno. Qual è il suo problema? Costa troppo poco ed è troppo bello. Io cosa posso fare per lei? Mi dica che questo lettore DVD costa tantissimo. Complesso dell'elettronica low cost. Scinelco, l'elettronica low cost di alta qualità. Garantita e assistita. Non c'è più bisogno di aspettare in piedi Babbo Natale. Direct Line ti regala due mesi di polizza auto. Finalmente hai trovato il regalo che stavi cercando. Risparmiare è un gioco da ragazzi. Corri subito su internet. Due mesi sono gratis. Vai su directline.it Fai subito un preventivo. Auguri di buon Natale da Direct Line. La mia vita è tutta un dieci. Sono nato alle dieci e dieci. Abitavo al dieci. A scuola prendiamo sempre dieci. Lei mi ha scelto tra altri dieci. Chi sceglie Vodafone si merita un dieci. Dieci auto ricarica. Dieci centesimi verso tutti per chiamate SMS. In più ti ricarica cinque euro ogni dieci euro di telefonare. Au, il dieci conviene sempre. Vodafone. Rottama subito la tua vecchia auto. Su tutta la gamma Fiat hai il massimo degli eco-incentivi. Fino a 6.000 euro. Più finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Affrettati. Gli incentivi statali stanno per scadere. Move. Move. Cerchi un'assicurazione auto che sia con te 14 ore al giorno. Conte.it. L'assicurazione auto online con consulenti dedicati. Per ogni tua esigenza. www.conte.it 800-180-180 Conte.it Pensata per te. Davvero con te. La 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 Hold me close and hold me fast The magic scale you cast This is the beyond rose When you kiss me heaven's eyes And oh I close my eyes I see the beyond rose Nuovo Martini Rosato